Ciao da Absim! Un commento aggregato alla partita dell'Inter, al pareggio subito in rimonta, in rimonta subita dall'Inter contro il Bologna e alla vittoria invece del Milan. Un commento alle prestazioni naturalmente, non ai risultati, quindi mi perdoneranno i tifosi dell'Inter se parlo anche del Milan e i tifosi del Milan se parlo anche dell'Inter. Ma magari interessa o magari no, in ogni caso se il video vi piace non dimenticate di mettere like e magari anche di condividerlo con chi può essere interessato. Recuperando, guardando queste due partite, le cose interessanti da dire, cioè le cose interessanti che si sono viste sono secondo me tante e io comincerei con Inter Bologna dicendo innanzitutto che Tiago Motta è un grandissimo allenatore. Questo lo sapevamo, abbiamo avuto forse l'ennesima conferma, il Bologna è una bellissima squadra, il Bologna fa calcio, il Bologna gioca a calcio molto molto bene e c'è tantissimo del Bologna in questo risultato e nell'andamento della partita. C'è tantissimo del Bologna nelle difficoltà e negli errori dell'Inter e questo ovviamente non toglie responsabilità all'Inter e ai giocatori, anzi perché non dovresti essere sopraffatto dal Bologna, non dovresti avere tutte queste difficoltà con il Bologna, non perché si chiama Bologna, ma per le ambizioni che ha il Bologna, per i giocatori che ha il Bologna e per le ambizioni che ha l'Inter. E' chiaro che è molto difficile fare delle buonissime prestazioni dopo questo ciclo di sette partite, sia per l'Inter che per il Milan, in pochissimi giorni. Pioli l'ha ricordato, sette partite in 21 giorni, quindi ogni tre giorni. Sicuramente è molto difficile, è dispendioso, il Bologna ha giocato naturalmente un po' meno, quindi non erano le partite da cui pretendere le migliori prestazioni. In entrambi i casi, tra l'altro, abbiamo potuto vedere delle scelte anche tecniche, sia nella formazione iniziale che in corso di partita, nella formazione iniziale per quanto riguarda Pioli e in corso di partita per quanto riguarda Inzaghi, che sono state proprio funzionali a cercare di alzare i ritmi, a cercare di migliorare la prestazione e di fare fronte anche ad una stanchezza mentale. Per esempio, per quanto riguarda Turam, Inzaghi ha detto semplicemente, dopo la partita, che fare entrare Sanchez è stata una scelta tecnica e io condivido, perché Turam non ha giocato bene. Turam ha iniziato con una buona prestazione proprio nei primi minuti, poi è andato veramente scevando e secondo me si è un po' perso, mi è sembrato un po' estraneo al gioco e da Turam una cosa del genere non te l'aspetti, e soprattutto ti toglie tantissimo, più che altro in possesso non è stato brillante Turam, è perché l'Inter ha bisogno di una precisione e di un cinismo da parte di tutti i giocatori offensivi. Parliamo infatti un pochino di come gioca l'Inter, lo diciamo sempre, lo sappiamo, però bisogna rimarcare una cosa che mi è parsa molto evidente nella partita contro il Bologna, il fatto che l'Inter ha un'ottima occupazione degli spazi, un'ottima distribuzione dei giocatori, ottima nel senso di funzionale a quello che è l'Inter come individualità e a quello che vuole fare in campo e a quello che poi è lo sviluppo di gioco dell'avversario, con una prevalenza di occupazione della metà campo propria, cioè l'Inter sta nella propria metà campo in non possesso, che non significa che l'Inter si schiaccia dietro o fa attendismo, contropiedismo e difensivismo, assolutamente no, anzi sono perfettamente distribuiti con un'ottima profondità, non si schiaccia mai l'Inter, ma soprattutto nel giropalla degli avversari c'è sempre questo sistema di far salire le punte per andare ad aggredire accompagnate anche o da un esterno o da un centrocampista per cercare di rompere quell'inerzia, quindi l'Inter non rinuncia mai fondamentalmente al pressing, non rinuncia mai a cercare di recuperare il pallone, ma questo atteggiamento poi porta a questa bellezza del gioco offensivo dell'Inter che è data dallo sviluppo veloce negli spazi, l'Inter trova sempre, e questo l'ho già detto in precedenza, trova sempre ottimi spazi da aggredire quando devi attaccare, e di fatto a parte il gol di Acervi molto presto su corner, non è un gol episodico, perché un gol episodico su corner a mio avviso è quando sbaglia il difensore, sbaglia il portiere, c'è un rimpallo, magari capita il pallone ad un giocatore che si trova in una posizione dalla quale non doveva offendere, per esempio esce il pallone dall'area, va a finire un giocatore che stava fuori, quello ti resegna, quando invece batti così bene un corner e c'è un movimento studiato di Acervi per andare in anticipo sul primo palo e spizzare di testa, quello è un corner studiato in allenamento e quindi quel gol è meritato, cioè è frutto di lavoro, ok? Quindi intanto diciamo questo, non è gol su corner, ci sono gol su corner e gol su corner, cioè questo è un gol su corner, quello di Milik per esempio è un errore del portiere, punto, è un errore del portiere, punto, perché lì se il portiere non esce a farfalle, Milinko Cisavic l'ha fatto tre volte e due volte ha regalato praticamente gol all'Allegrentus, io non so come fa a segnare Milik e come fa a segnare l'Allegrentus, parentesi. Poi arriva subito dopo il gol di Lautaro in cui rientra anche Turam e quello è un tipo di azione da Inter, l'Inter tra l'altro ha cercato il gol sia nel primo che nel secondo tempo con tantissime soluzioni, in tantissimi modi diversi ma mai casuali perché ha tante strategie, poi però qualcuno è mancato e qualcuno è venuto meno. Riguardo a Sanchez, io Sanchez non l'avrei ripreso, fossi stato l'Inter o fossi stato tifoso interista, non l'avrei rivoluto Sanchez, per cui mi rendo conto che quando c'è Sanchez io non mi aspetto molto perché secondo me non può dare tantissimo, poi farà anche delle buone partite e infatti ha giocato secondo me un po' meglio di Turam, di come stava giocando Turam e quindi ha dato qualcosa, ma ha anche un po' rallentato il gioco. Quello che mi è piaciuto tantissimo entrando è stato Carlos Augusto, grandissimo ingresso in campo di Carlos che ha dato ritmo, ha dato grande voglia e convinzione nel cercare di attaccare. Un buon ingresso anche da parte di Quadrado, giusto mettere frattesi, cioè alla fine le scelte di Inzaghi io le condivido per tempistiche, proprio per il contenuto delle scelte, poi però che cosa non ha funzionato? Non ha funzionato, ecco intanto il gol di Zirk Zee, io secondo me, insomma Sommer poteva fare un pochino meglio, cioè rivederlo, non lo so, infatti mi sembrava ci fosse stata una deviazione determinante, invece no, il tiro finisce dritto in porta. Chiaramente lì c'è stata un po' una disattenzione, c'è stata un po' una dormita, perché il giocatore fa un ottimo movimento, però va a tirare con quanti? Due o tre giocatori davanti potenzialmente a schermarlo e ad intervenire? C'era un'inferiorità numerica per il Bologna, una superiorità numerica per l'Inter, si doveva sfruttare per aggredire meglio. Detto che il rigore ci sta e fa bene Inzaghi a lamentarsene, fa bene Inzaghi a lamentarsene invece di fare come altri, provare ad annacquare e dire che poi è borderline, perché fondamentalmente l'autorofa fa una cosa stupidissima, poi è anche sfortunato perché quelle cinture in area, quel tipo di duelli, di contrasti, ce ne sono tantissimi, solo che è capitato che la palla stava arrivando proprio lì, e quindi l'arbitro non poteva, anche tramite review, non dare rigore, perché è stato determinante. Chiaramente il giocatore del Bologna si sente cinturato, si butta a terra, ne approfitta, non c'è veramente l'autorofa che butta a terra il giocatore del Bologna, il giocatore si butta a terra, però l'autorofa quello che fa non lo può fare ed è anche stupido fare una cosa del genere, perché sì, sei in ritardo nel tenere il giocatore, ecco, e quindi hai già commesso un errore, ma in quel modo fa ancora peggio, perché in quel modo l'Inter, che a momenti dopo il 2-0 rischiava di iniziare a dilagare, di fare subito il 3-0, ha capito che la partita era cambiata completamente, che non era una partita vittoria facile e da dilagare, ma era una partita da giocare seriamente, e l'ha capito anche il Bologna, che con quel 2-0 aveva preso due schiaffi e si poteva sentire stortito, infatti, prima del gol, Bologna non aveva avuto, mi pare, occasioni significative per accocciare le distanze, dopo si è rimessa in carreggiata ed è arrivato questo pareggio, tra l'altro è arrivato nella prima parte, nella prima metà del secondo tempo, con l'Inter che quindi poi, come dice Inzaghi, ha dominato, ma non è riuscita più a rimettersi davanti, senza rischiare assolutamente di prendere il 3-2, perché poi il Bologna si è chiuso dietro, però appunto c'è stato tantissimo Bologna, perché, e qui è il problema, non è neanche il risultato, la classifica, perché c'è tempo, non c'entra neanche il Sassuolo, fa bene Inzaghi per i giocatori, per dare stimoli a ricordare la partita col Sassuolo, dove pure si è passato in vantaggio e poi si è subito la rimonta e si è perso, ma sono partite completamente diverse, perché quello che emerge, casomai, è la difficoltà dell'Inter, pur dominando, pur giocando tanto il pallone, pur muovendolo anche rapidamente, di trovare il gol contro difese chiuse ma organizzate, perché la difesa del Bologna non è solo chiusa ma è organizzata ed è stata una difesa proattiva per tutto il secondo tempo, quando c'è una situazione di frenesia, quando ti scatta la frenesia che devi andare a segnare. Lì, l'Inter in questo momento è debole, o non è forte abbastanza, non è forte abbastanza evidentemente per il Bologna. Grandi complimenti a Tiago Motta, che si gode i suoi giocatori, Ferguson, Zirzi, Orsolini l'abbiamo già detto da tempo, che finalmente è sbocciato dopo, insomma, sta tirando fuori le caratteristiche che sapevamo che aveva ma che non erano state messe in luce in precedenza. Un po' di statistiche di Wisecout prima di passare a Genoa-Milan, XG Inter 2-0-7, Bologna 1-13, quindi comunque Bologna è il suo, l'ha fatto ma l'Inter avrebbe dovuto capitalizzare meglio, solo due tiri nello specchio per il Bologna e sono stati due gol su 8, quindi come dicevo su 8 totali, 14 tiri l'Inter con 6 nello specchio, oltre a 600 passaggi l'Inter, su questo il dominio non c'è dubbio, 87% di precisione, Bologna comunque ha quasi oltre 330 passaggi con l'81% di precisione, non male, poi ovviamente c'è stato il secondo tempo in cui hanno un po' rinunciato non tanto al gioco, al possesso, perché hanno giocato, hanno giocato chiudendo abilmente gli spazi, stando sempre su tutti quanti, su tutti i possessi, su tutti gli uomini per evitare, poi ovviamente non sono riusciti a fare ripartenza, con il possesso infatti 60 a 40 grosso modo per l'Inter, Inter che ha tentato anche tantissimi cross, qui vediamo anche un po' la disperazione perché tutti questi cross segnalati da Wisecout, 30, non mi pare che sia... ecco, è una strategia, ripeto, delle tante modalità di attacco dell'Inter, ma non è la tipica, 31 tocchi in area da parte dell'Inter, solo 5 concessi al Bologna, e questo è il dato forse più eclatante, se tu concedi solo 5 possessi in area, non puoi prendere due gol su due tiri in porta, premesso, ribadendo comunque che il Bologna ha fatto una grandissima prestazione, che non ha pareggiato in maniera fortunosa, fortunata, c'è stato tanto Bologna e troppo poca Inter a livello prestazionale, a livello di efficacia. Per quanto riguarda i duelli, comunque l'Inter complessivamente meglio, anche decisamente più passaggi in avanti, più passaggi anche verso la tre quarti, avversaria con maggiore precisione, più passaggi naturalmente progressivi, con un ritmo di gioco elevatissimo, pensate, 19 passaggi per minuto di possesso palla proprio, l'Inter, con il Bologna confinato poco sopra 16, addirittura 6 passaggi per segmento di possesso palla, la media di segmento di possesso palla, cioè significa che in media i giocatori dell'Inter si facevano 6 passaggi di fila, ovviamente ci sono stati segmenti da 3 passaggi, da 2 passaggi, ma anche da 10, e più di 10, quindi c'è stato questo dominio, obiettivamente c'è stato, il che significa che l'Inter queste cose le sa fare. Ovviamente pochissimi lanci lunghi, 9% invece il Bologna, 6,5% l'Inter, questo naturalmente, distanza media di tiro più o meno simile, siamo sopra i 18 metri, lunghezza media di passaggi circa 18 metri in entrambe le squadre, il che significa che comunque è stata una partita di grande qualità, e ancora una volta l'Inter si assesta molto bene, come di recente le sta capitando, per il PPDA, intensità di pressing, 7,5 contro il Bologna, quasi 14, e quindi il Bologna ha anche un po' rinunciato. Diciamo che alla fine un po' di partita speculativa, Tiago Monta con il Bologna ha provato anche a farla, ma il punto qual è? Che con l'Inter che fa i cambi, e aumenta così tanto il ritmo, e sappiamo che sta a tenere benissimo il possesso, se vuole, per il Bologna è stato utile e intelligente ribassarsi, ma facendo calcio, giocando a calcio, non rinunciando a giocare a calcio, stando sempre pronto a cercare di riconquistare il pallone basso, senza salire troppo, ma comunque facendo una buona prestazione. Come sempre ci sarebbe un altro miliardo di cose da dire, ma non c'è tempo, passiamo allora a Genoa-Milan. Genoa-Milan passerà alla storia per la parata di Giroud, che sa fare le uscite, quantomeno quelle basse, evidentemente meglio di Milinkovic-Savic, passerà alla storia però anche per la squalifica di Hernández e di Mignan per la prossima partita contro l'Alegrentus. Ora, Hernández è stato ammonito in una situazione stranissima, perché è andato alto a destra, insomma a pressare, con il Bologna che cercava di uscire, e ha fatto un fallo da ammonizione. Poi però è stato ammonito due o tre minuti dopo, appena si è interrotto il gioco, molto più tardi, su un possesso del Milan. E effettivamente il giallo ci sta, perché Hernández va sull'uomo che sta scaricando il pallone. Sono quelle classiche giocate in avanti, lungo la fascia, in cui se l'avversario va sull'uomo viene sempre ammonito, anche se non si tratta di una vera e propria ripartenza, come in questo caso. E quindi Hernández era in diffida, ammonito, ci sta la squalifica, poco da discutere. Un po' più da discutere su Mignan, perché poi Zangrillo, può dire quello che vuole, poi parliamo anche, anzi, dell'episodio di Pulisic, non vi dico nulla, facciamo così, del gol di Pulisic, perché siccome ne parlo sul mio secondo canale, Absimaut, dove trovate video brevi sul calcio, ma per quanto riguarda il discorso di Mignan, l'uscita di Mignan, allora intanto quando il portiere è fuori dall'area, non vale il discorso dell'uscita del portiere, che in area, ecco, soprattutto nell'area piccola, in genere nei contrasti, è sempre quello che vince, perché subisce fallo. Quindi l'uscita di Mignan, fuori area, deve fare chiaramente attenzione. Lui alza il ginocchio, e va a colpire l'avversario, è un'uscita irruenta. In realtà, si cercava di capire, poi la review, la on-field review, è stata anche per, la cosiddetta chiara occasione da gol. Però io, sinceramente, mi sarei limitato a dare un giallo. Cioè, il rosso, per quello che può dire Zangrillo, ma si tratta di uno scontro di gioco, ce ne sono di peggiori, non è che Mignan volesse fare male. È andato di testa su un pallone. Forse poteva evitare di tenere il ginocchio alto, però non mi pare. Cioè, cerchi, vai sul pallone, io il rosso, sinceramente, ci può stare, lo posso capire, però è opinabile, non mi sembra questa cosa clamorosa. Per cui, ecco, il fatto che Mignan sarà squalificato per almeno una partita, poi chissà se la situazione porterà il giudice sportivo a squalificarlo per più gare, secondo me è eccessivo ed è un problema per il Milan, un vantaggio per l'Alegrentus, che si unisce a quello di Teo che però ci sta e va bene. Sorvoliamo perché dobbiamo parlare di calcio, dobbiamo parlare, per esempio, come dicevo, delle scelte tecniche di Pioli, mette Okafor, Jovic e Ciukueze che non funzionano però, che non funzionano. Un po' meglio Ciukueze, Okafor a sinistra non ha praticamente giocato, ha giocato il primo tempo, praticamente non lo si è visto. Jovic ha fatto una partita molto, una partita un po' fantasma. Lo si vedeva e non lo si vedeva. Di sicuro non è stato servito in maniera pulita, perché poi è stata una partita molto sofferta e complicata, tant'è che 0-0 per tutto il primo tempo e bisogna anche dire che Gilardino sta facendo un buonissimo lavoro con un organico chiaramente da salvezza, con un organico chiaramente da salvezza e qui mi verrebbe ancora una volta da chiedere chi è l'allenatore più bravo tra quello che fa giocare bene la sua squadra con giocatori poco costosi, poco pagati e poco forti e quello che fa giocare male la sua squadra con giocatori costosi, forti e strapagati. Non lo so, chi è al di là dei risultati, chi è il più bravo? Gilardino è bravo, Gilardino è bravo perché il Genoa, io l'ho visto anche la prima partita, ricordiamo il Genoa come ha iniziato questo campionato, sta crescendo, sta migliorando, riesce a tenere meglio il campo, riesce a tenere una compattezza, riesce a tenere delle idee, abbiamo visto anche la prestazione con la Roma, riesce a sapere che cosa fare in campo e sa quando è il momento di attaccare e come bisogna difendere, quando è il momento di attaccare perché chiaramente il Genoa non può neanche in casa attaccare troppo e continuamente perché con giocatori tecnici come quelli che ha il Milan nonostante le riserve appunto per il momento Ciughez e Okafor non ti puoi scoprire, c'era comunque Ternandes, non ti puoi scoprire troppo, devi fare una partita strategica ma nella partita strategica il Genoa ci mette tante cose perché c'è l'aggressività, perché c'è il palleggio quando ci deve essere perché ci sono gli sviluppi anche su come andare dall'altra parte, su come andare ad attaccare e poi chiaramente c'è il grosso rammarico perché ha dovuto fare una parata nel secondo tempo Mignan prima di essere espulso veramente clamorosa con Giroud in porta c'è stata la traversa e quindi ovviamente il Genoa si sente derubato, defradato quello che volete ma comunque si sente di aver perso immeritatamente e ci sta la sensazione, ci sta perché comunque il gol di Pulisic è episodico perché non dovrebbe neanche trovarsi lì c'è un cross c'è un ottimo cross di Musa e lì appunto c'è questo movimento un po' con il pallone non pulitissimo e va a fare un'ottima esecuzione poi ripeto del discorso tocco di mani ne parla in un altro video Musa tra l'altro ha fatto un'ottima partita forse la migliore fin qui da quando è al Milan abbiamo detto che è un giocatore molto duttile prevalentemente è un esterno però negli sviluppi si fa trovare dappertutto è stato molto aggressivo poi dobbiamo anche parlare di Adli oltre che Tomori ciao hanno fatto tutti un'ottima partita dal punto di vista tattico è stato interessante mettere Giroud per Adli da parte di Pioli per cercare di vincere con Giroud e Jovic uno di fianco all'altro ora Giroud e Jovic non hanno funzionato male perché chiaramente si alternavano nel fare punta sotto punta e quindi con i movimenti più o meno ci siamo Leao ha dato il suo contributo entrando con una buona condizione e chiaramente facendo di più rispetto a Okafor anche se con le classiche giocate codificate per lo più individuali quindi non grandissime cose Pulisic è un giocatore di livello superiore in questo momento per il Milan senza senza Loftus-Cic in questo caso con Reinders di cui si parla sempre troppo poco ma che è un giocatore di grandissimo dinamismo che accompagna proprio l'azione che porta per mano la squadra che va in orizzontale per 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 trasmettere proprio il gioco Adry la cosa fantastica di Adry è che anche lui è dappertutto è stato dappertutto e ha fatto tutte le fasi quello che diciamo è la caratteristica di Adry è la lentezza l'apparente lentezza è un po' compassato però è un giocatore di grandissima qualità il ritmo lo mette con la visione di gioco e qualcuno dice Paolo Sosa Zidane ma a me ricorda tantissimo Pirlo come ruolo come movenze come stile di gioco ovviamente Pirlo era un'altra cosa anche Zidane era un'altra cosa però insomma Adry veramente molto interessante sta venendo fuori evidentemente Pioli ci sta lavorando quando è uscito Adry la soluzione di Pioli è stata quella di mettere ha messo Calabria per Florenzi Florenzi non mi è piaciuto tra l'altro Calabria perché sappiamo è Calabria spesso ma in realtà anche anche con con l'impostazione iniziale il Milan ha fatto il quadrato che fa spesso dietro cioè mette i due centrali in possesso ci sono i due centrali e i due terzini vanno davanti ai due centrali lo si è fatto prima però c'era meno bisogno perché c'era Adry e quindi Teo poteva spaziare un po' di più con l'ingresso di Calabria è stato Calabria di fatto a prendere il posto di Adry visto che Giroud è salito e lì si è visto un Milan più verticale più essenziale più efficace perché c'era bisogno di quello e diciamo che il gioco non ne ha risentito il che non significa che Adry fosse inutile significa che con Adry stavi facendo un gioco magari più come dire un po' più complesso nel senso meno diretto un gioco meno diretto un qualitativo e poi non sei andato a perdere praticamente l'uomo in mezzo al campo il Milano non l'ha perso questa è una cosa importante che sarà dipeso anche dal livello di gioco del Genoa ma io credo che sia dipeso anche da una buona preparazione della partita in questo caso per quanto poi Pioli un po' l'ha fatto capire nelle dichiarazioni post partita che le scelte dei subentranti non erano state predeterminate sono state delle scelte tecniche non erano scelte di minutaggio cioè non si era deciso che Ciukweze e Okafor dovessero fare 45 minuti e gli altri altri 45 minuti e quindi evidentemente non è stato soddisfatto ma è una sua responsabilità è una responsabilità di Pioli se Ciukweze e Okafor titolari in quella posizione ancora non soddisfano ad oggi però il Milan le soluzioni tattiche ce le ha chiudiamo perché siamo andati lunghissimi con i dati di Wisecout Milan 1,29 XG Genoa 0,72 quindi comunque il Genoa non male zero tiri però nello specchio io mi ricordo una parata io mi ricordo una parata importante di Mignan forse mi sto confondendo va bene comunque tre tiri nello specchio per il Milan il doppio 12 a 6 per quanto riguarda i tiri totali 542 passaggi il Milan con l'89% di precisione ma molto bene anche il Genoa 359 passaggi con l'85% di precisione possesso 57 a 43 i cross più o meno siamo lì come quantità e sono stati abbastanza sfruttati ma non tantissimo 18 tocchi nell'area avversaria per il Milan ma ne ha concessi 12 al Genoa quindi complimenti al Genoa e Milan da questo punto di vista che ha rischiato qualcosina più che altro nel finale immagino che molti di questi tocchi siano nel finale con l'uomo in meno con Giro in porta per quanto riguarda i duelli abbiamo che nei duelli difensivi diciamo che c'è stata una sostanziale equivalenza tra le due squadre nei passaggi il Genoa comunque è stato molto progressivo perché ha quasi eguagliato il numero di passaggi pur con meno passaggi il numero di passaggi in avanti e il numero di passaggi progressivi del Milan ritmo di gioco del Genoa però troppo basso solo 14 passaggi di media per minuto di possesso palla Milan 16 e qualcosa più di 7 passaggi per segmento di possesso palla il Milan il Genoa circa 4 e mezzo anche qui poco questo 7 numero 7 è altissimo e infatti è spiegato benissimo visto il non altissimo ritmo di gioco con il PPD a molto alto cioè con un ritmo di gioco non altissimo un segmento medio di 7 passaggi significa apatia significa passività degli avversari infatti il PPD del Genoa 20 20 cioè significa che non sono andati a fare molto pressing il Milan sotto 10 tra l'altro il Genoa ha addirittura oltre il 12% di lanci lunghi il Milan solo il 6% sul totale delle giocate le distanze medio di tiro e distanze di passaggio possiamo chiudere così non andiamo troppo per le lunghe ci sarebbero state miliardi di altre cose da dire ma spero credo e spero che vada bene così grazie per la vostra attenzione buon dibattito nei commenti su questa mia analisi di Inter Bologna e di Genoa Milan ma il dibattito prosegue anche su Discord trovate il link in descrizione con tante chat tra cui quella dell'Inter e quella del Milan e in generale per parlare di calcio se il video vi è piaciuto come già detto mettete like condividetelo se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche così da non perdere i prossimi contenuti abbonatevi a partire da 99 centesimi al mese per tanti vantaggi e come già detto c'è anche il mio secondo canale YouTube Avsim Out primo link in descrizione dove trovate video brevi sul calcio ci vediamo molto presto e per il calcio senza compromessi sempre Allegri Out grazie a tutti